Qui ci sono 19 appartamenti vuoti, alcuni anche ristrutturati, significa non assegnati, e a Pescara ci sono circa 700 persone in graduatoria, alcuni anche da 10 anni che aspettano l'assegnazione di un alloggio provvisato. Questo grida vendetta. Cerca vendetta il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. Il 5 Stelle è tornato in Via Rigopiano, a Pescara, per puntare il dito contro quello che definisce degrado a due passi dall'ospedale. Sporcizia e spaccio, queste le problematiche delle palazzine Ater, secondo Pettinari. Seconda cosa, la sporcizia da tutte le parti. Qui urinano, sputano lungo i corridoi, lasciano immondizia da tutte le parti, dentro i palazzi, fuori, gettano l'immondizia dalla finestra e i cittadini onesti non ce la fanno più a sopportare. Poi, nuovamente, stiamo a denunciare perché è riniziato lo spaccio di droga. Spaccio di droga, quindi delinquenti, criminali. Io invito soprattutto le forze di Polizia dell'Ordine a seguire queste persone. Pettinari chiede di verificare i requisiti degli assegnatari delle abitazioni, di controllare le allacce all'energia elettrica, al gas e all'acqua, di assegnare le case vuote e di formare un comitato ordine pubblico in sinergia col prefetto. E questi controlli li deve fare il Comune.